Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. La cronaca in apertura partendo dall'indagine sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Nuovi arresti da parte dei carabinieri e stavolta sono tre insospettabili. Vediamo il servizio. Nuovo colpo alla rete che ha protetto Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I carabinieri del ROS hanno arrestato per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazzara del Vallo Cosimo Leone. E per concorso esterno in associazione mafiosa Leonardo Gulotta. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido ed IPM Gianluca De Leo e Piero Padova. Dalla cattura del boss avvenuta il 16 gennaio del 2023 sono finite in manette 14 persone accusate di aver aiutato il capo mafia ricercato. Quattro sono già state condannate. Originario di Campobello di Mazzara, l'architetto Gentile vive all'Imbiate in provincia di Monza e ricopre un incarico amministrativo al comune ed è parente di Salvatore Gentile, killer ergastolano, marito dell'amante storica di Messina Denaro, Laura Bonafede. Dalle indagini è emerso che tra il 2007 e il 2017 Gentile avrebbe ceduto più volte la sua identità al capo mafia ricercato, consentendogli così di acquistare una Fiat 500 e una moto BMW, di stipulare l'assicurazione sui due mezzi e di compiere operazioni bancarie. A Cosimo Leone, cognato di Gentile, viene contestato invece di aver garantito al boss latitante, a novembre del 2020, di fare in sicurezza un'attacca al torace e all'addome, di avergli consegnato un cellulare riservato durante il ricovero all'ospedale di Mazzara del Vallo nei giorni in cui il capo mafia venne operato di tumore al colon e di avergli fatto recapitare, dopo le dimissioni, il CD dell'attacca da mostrare agli specialisti che lo avevano in cura. Gulotta, infine, è accusato di aver messo a disposizione di Messina Denaro tra il 2007 e il 2017 la propria utenza telefonica per poter ricevere comunicazioni dal rivenditore della Fiat 500, acquistata sotto falso nome, e dalle agenzie assicurative presso le quali erano state stipulate le polizze per la macchina e la moto comprate con l'identità di Gentile. Un arresto a Solarino, nella Siracusano, si tratta di un 49enne trovato in possesso di diverse dosi di crack, ovviamente da spacciare. Vediamo i dettagli del servizio. I carabinieri della stazione di Solarino, supportati dai militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e del nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno tratto in arresto un 49enne del posto gravemente indiziato di detenzione abusiva di stupefacenti. L'uomo è stato arrestato nell'ottobre 2022 per lo stesso reato e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ciononostante, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di crack, sostanza suddivisa in 15 dosi preconfezionate, il tutto rinvenuto all'interno del vano di un faretto del controsoffitto del bagno posto sopra la vasca idromassaggio, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e 1035 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione e denunciato in quanto è stato accertato anche il furto di energia elettrica mediante un allaccio diretto alla rete pubblica. Un arresto anche a Palermo si tratta di una 44enne che i carabinieri hanno trovato in possesso di armi, denaro e documenti falsi. I carabinieri della compagnia Palermo-Piazza Verdi, nell'ambito dell'assidua azione di contrasto alla criminalità diffusa, con riferimento anche alla detenzione illecita di armi, hanno tratto in arresto un palermitano, un 44enne già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di possesso clandestino di armi, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di denaro falso, nonché possesso e fabbricazione di documenti di identificazione contraffatti. A condurre l'attività sono stati i militari delle stazioni di Acqua dei Corsari e Brancaccio che con il supporto di una unità del nucleo Cinofili di Palermo-Villa Grazia hanno perquisito l'appartamento dell'indagato nel quartiere Ciaculli, trovandolo in possesso di tre pistole a tamburo modificate, due delle quali senza matricola, nonché di quasi 80 cartucce di diverso calibro. La perquisizione ha inoltre consentito la scoperta di una vera e propria stamperia clandestina allestita all'interno di un locale del 44enne, attrezzato con computer, sofisticate stampanti e matrici utili alla fabbricazione illecita non solo di denaro, ma anche di documenti di identità, patenti di guida e codici fiscali. Nel corso della ricerca sono stati recuperati e sequestrati oltre 50 mila euro in banconote false di vario taglio, nonché diversi documenti di identificazione e contraffatti. L'indagato, su disposizione del pubblico ministero, è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida. L'arresto è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. A Catania prosegue l'azione di contrasto da parte delle Forze dell'Ordine al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio è pervenuta alla sala operativa della Questura di Catania la segnalazione della presenza di una persona molesta intenta esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo nella centrale Via Di Prima. Per questo motivo gli agenti delle volanti sono stati inviati sul posto dove hanno immediatamente individuato l'uomo oggetto della segnalazione identificato e risultato essere un quarantenne, un cittadino sudanese, pregiudicato. A seguito di specifici controlli, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà il quarantenne per la violazione del Dacur al quale era sottoposto e sulla base del quale gli era stata inibita la frequentazione di quella zona. Il soggetto, nel corso della stessa giornata, era già stato denunciato per la stessa ragione in quanto trovato in Via Felice Gambino mentre esercitava abusivamente l'attività di parcheggiatore. Cambiamo decisamente argomento. La regione è pronta a richiedere lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica che sta colpendo la Sicilia. Primi giorni di primavera e il sud Italia è già a corto d'acqua. Nelle scorse settimane la Sicilia ha dichiarato lo stato di emergenza per la grave siccità e ha approvato un piano di razionamento dell'acqua che coinvolge quasi un milione di persone, circa un quinto della popolazione totale. Un intervento drastico reso necessario dalla persistente carenza di precipitazioni che ormai da mesi colpisce la Sicilia e non solo. Secondo la regione, il 2023 è stato il quarto anno consecutivo con precipitazioni al di sotto della media storica di lungo periodo. E anche i primi mesi di quest'anno, caratterizzati da temperature più alte e scarsità di piogge, hanno confermato finora questa tendenza. I dati dell'autorità di distretto siciliana parlano di 299 milioni di metri cubi d'acqua invasata, cioè il 30% della potenzialità. Il valore è più basso dal 2010. Il governo regionale è pronto a chiedere lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica in Sicilia. Questa è la decisione presa nel corso della riunione del tavolo tecnico convocato a Palazzo d'Orleans dal presidente della regione Renato Schifani. Un provvedimento, viene spiegato, che punta soprattutto a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini, di quella per il comparto agricolo e zootecnico e per consentire alle imprese di continuare a lavorare e portare avanti i cantieri nell'isola. E a proposito di crisi idrica, a Burgio, comune dell'Agrigentino, il sindaco ha emanato un'ordinanza che vieta ai cittadini lo spreco di acqua. Il sindaco di Burgio, nell'Agrigentino, ha emanato un'ordinanza per fronteggiare la grave emergenza idrica, invitando la popolazione a fare un uso consapevole e responsabile dell'acqua potabile. L'ordinanza, firmata da Vincenzo Galifi, ordina a tutti i cittadini un uso, il più possibile parsimonioso, della risorsa idrica e un suo impiego esclusivo per gli usi alimentari ed igienico-sanitari. È vietato, infatti, l'utilizzo di acqua potabile per lavare cortili e piazzali, pulire l'autovettura, riempire vasche e fontane, irrigare prati e giardini. È consentito, però, innaffiare le piante di casa, ma solo con l'acqua già usata per lavare frutta e verdura. Mentre, per pulire i pavimenti, il sindaco consiglia di usare l'acqua di condensa dei climatizzatori. Inoltre, i residenti sono chiamati a riparare eventuali perdite dell'acqua dalle loro case. Il provvedimento dispone anche l'utilizzo di lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico, di preferire la doccia al bagno in vasca e, infine, di chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o si fa la barba. Eventuali violazioni, fa sapere il primo cittadino, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che vale 25 ai 500 euro per ciascuna violazione. Torniamo a parlare dell'ospedale di Taormina. Dopo il recente incontro con il commissario ASP, Mauro Romano ha raccolto il pensiero dei sindaci del comprensorio turistico. Il sindaco di Santa Teresa, Danilo Lologiu, dice oggi al CCPM e all'ospedale San Vincenzo. Quali sono le problematiche che lei ha fatto emergere nell'incontro con il nuovo commissario dell'ASP? Intanto c'è un coro unanime che riguarda il CCPM, la necessità di mantenerlo, questo sì, anche perché intorno al CCPM ruotano anche tutta una serie di reparti fondamentali e importanti. Quello che è chiaro ed è fondamentale però è che si comprenda come nell'ultimo decennio veramente c'è stato un depaperamento dell'ospedale. Noi abbiamo la necessità, l'abbiamo detto chiaramente al commissario, che venga invertita la rotta. L'arcometto Gardine era la chirurgia pediatrica che hanno trattato tutti. Io ho voluto trattare solo un problema che secondo me è importantissimo, tanto quanto la chirurgia pediatrica, il problema del pronto soccorso. Il nostro pronto soccorso non è il pronto soccorso della zona ionica, ma il nostro pronto soccorso è il pronto soccorso di Catania, della zona ionica catanese, della zona ionica del terreno e di tutti. Per cui sostanzialmente mi ha portato un discorso serio come risolvere il problema del pronto soccorso. La gente non può aspettare 10 ore, 8 ore, 20 ore addirittura per essere visitata dal pronto soccorso. Ho dato anche un suggerimento. Oggi esiste un reparto, se si può chiamare reparto, un presidio sanitario che è nel vecchio ospedale San Vincenzo, che dovrebbe visitare i casi del codice bianco. Siccome in quel reparto o in quel posto non va nessuno, sarebbe opportuno spostarli all'interno del San Vincenzo in modo che tutti i codici bianchi vanno a finire in questo pronto soccorso di codici bianchi. Sono convintissimo che così abbatteremmo le richieste del vero pronto soccorso del 37%. Cosa significa avere nel territorio un ospedale funzionale? Significa avere sicuramente l'assistenza per tutti i cittadini della Valle dell'Alcantara e delle città viciniori e poter offrire un servizio fondamentale per la salute dei cittadini e dei pazienti. Giardini Naxos si batterà per mantenere gli standard dell'ospedale San Vincenzo? Sicuramente, già l'abbiamo fatto. Siamo intervenuti anche a livello regionale con l'assessore che ci ha garantito che sarebbe intervenuta per vedere di venirci incontro. Per una zona turistica come la nostra l'ospedale di Taormina ovviamente rappresenta non solo un punto di riferimento ma è qualcosa di importantissimo nel senso che ci dà il biglietto da visita del comprensore anche in ambito turistico ecco perché questo depotenziamento dell'ospedale stesso che è avvenuto negli ultimi anni crea grossi disagi al comprensore. Restiamo a Taormina, l'arte del flambè a scuola all'Istituto Pugliatti. Il maître dell'hotel San Pietro, Raffaele Nicotra oggi è un importante appuntamento perché il flambè è andato a scuola qui al Pugliatti ecco, cosa ha effettuato Nicotra? Bene, oggi come diceva si è chiuso questo percorso di quattro giornate con a tema la cucina flambè dove sono stati presentati quattro piatti dall'antipasto al dolce come abbiamo fatto oggi la pera e grazie ovviamente anche al professore Leonardo Nicifore, al preside dell'Università Napoli ci siamo potuti spingere anche oltre perché non abbiamo solo incentrato le lezioni solo sul flambè ma anche abbiamo fatto gli approfondimenti su quello che è il mondo della ristorazione moderna. I clienti chiedono il flambè? Sì, i clienti chiedono il flambè lo chiedono più che altro vedendolo lo richiedono. Gli studenti del Pugliatti hanno accolto bene la sua performance? Gli studenti del Pugliatti in queste quattro lezioni proprio l'ho visti coinvolti, molto entusiasta di questo progetto e questo gliene fa loro grande onore allo stesso tempo è un orgoglio ovviamente di aver fatto questo. Il professore Leonardo Nucifora, ricordiamo un'associazione molto importante, la Mira, ecco perché dobbiamo ricordare questo sodalizio. La Mira è un'associazione a livello nazionale dove noi abbiamo contatti anche fuori l'Italia dove mandiamo i nostri studenti promettendo i post-diploma Londra, Svizzera, Germania eccetera anche in America abbiamo contatti i nostri associati a Mira che fanno i metri nei migliori alberghi del mondo. La Ormina ha fatto scuola? Certo che ha fatto scuola in tutto il mondo. Noi partiremo da San Pietro e ci allargheremo in tutti gli alberghi da Ormina a promuovere la cucina di sala dove non si può degustare, assaggiare davanti al cliente operare con gli occhi o fare un piatto dall'antipasta tessere a dosare il sale o l'olio o il zucchero quale sia per essere. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. Notizia Notizia